beh raga o noi ma dove che stiamo a fare l'abbiamo sgamato il bastardo e vabbè questo che cazzo non è cioè è un canale questo e proviamo magari massimo ci scantiamo a fare l'abbiamo a fare l'abbiamo a fare l'abbiamo è un'angelo giù Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.